Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, due chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 297 tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta e rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta, in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia, rallentamenti per lavori tra Follonica Nord e Venturina, in entrambe le direzioni. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!